buongiorno a tutti sono alessio martinelli del team martinelli re ma stella polare oggi ci troviamo a coreggia una frazione importantissime famosa di albero bello e vi mostreremo una villa composta da due unità immobiliari separate con ingresso indipendente ampio spazio esterno e terreno di 1500 metri seguitemi il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Now I'm looking in your eyes But I'm wandering to your lips See I'm trying to keep it cool While I'm hovering for the kiss Cause I've been eating you Like old fashioned on slice Sweet like jacquari With strawberry crushed ice Know you're like a margarita With the hot spice Love the taste of paradise Know it's never been the right time Like we're holding back the storyline And I'm waiting at the end of the night Thinking of you Questa proprietà è angolare rispetto a due strade Quindi oltre all'ingresso principale Che ci dà ingresso alla nostra prima abitazione indipendente Lateralmente da questo comodo passo carrabile Che ovviamente ci permette anche un comodo parcheggio Abbiamo questo ampio spazio esterno di oltre 300 metri quadri Completamente piastellato con un po' di verde Che ci darà la possibilità di accedere in maniera indipendente All'altro comodo appartamento al piano terra Sempre di quattro vanni accessori Che a breve vi mostreremo No, you like a margarita With the hot spice Love the taste of paradise Yes, you do No, it's never been the right time Like we're holding back the storyline And I'm waiting at the end of the night Thinking of you No, it's never been the right time Like we're holding back the storyline And I'm waiting at the end of the night Thinking of you Thinking of you Yeah, I'll be thinking of you There's nothing else I can do So I'll be thinking of you Cause I've been needing me like old-fashioned orange lights Siamo giunti al termine di questo meraviglioso video Oggi vi abbiamo mostrato una proprietà che si sviluppa sui 2000 metri quadri Dove abbiamo due abitazioni indipendenti Complessivamente otto vanni Box auto di 40 metri quadri Una comoda cantina Questo fantastico spazio esterno E in più la proprietà comprende 1500 metri quadri di terreno agricolo alle mie spalle Che apre ovviamente a tante altre possibilità Insomma non resta che chiamarci Thinking of you Oh 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 Grazie a tutti.